Salve a tutti Sì, è il mio primo video che decido di postare sulle reti sociali ed è un pensiero che ho maturato in questi giorni ma in particolar modo nella giornata di oggi riguardo questa situazione del coronavirus ma anche e soprattutto delle conseguenze economico, politico, sociali che questo sta portando. In particolar modo la mia riflessione si basa sulle strategie che i governi stanno adottando per far fronte all'emergenza e in particolar modo quella socio-economica. E mi viene in mente il fatto che attualmente per via dell'emergenza, degli stati di emergenza decretati in vari paesi del mondo, le attività private, l'iniziativa privata, soprattutto quella imprenditoriale, è stata sospesa e condizionata alle decisioni dei governi centrali. Questo fa sì che la libera impresa che in Italia peraltro è garantita dalla Costituzione non sia più possibile, soggetta chiaramente ad autorizzazione per operare. In particolar modo il maggior soggetto controparte dell'impresa, non solo italiana, sta diventando lo Stato centrale, quindi il pubblico, che poi provvede chiaramente a interiorizzare beni e servizi per poi distribuirli presuntamente a favore della collettività delle persone, dei cittadini. Allo stesso tempo lo Stato si farebbe carico delle esigenze economico-finanziarie dei suoi cittadini con misure differenti, con misure che variano a seconda del soggetto di cui si tratta, sia esso un lavoratore dipendente, un disoccupato o un libero professionista autonomo o partitaiva. E questo fa sì che diventiamo tutti dei dipendenti, degli stipendiati da parte dello Stato che ci sovvenziona secondo i suoi propri criteri. Questo sinceramente mi fa tornare alla mente il panorama che c'era nell'Unione Sovietica e chiaramente in tutti i paesi del blocco sovietico, i paesi di governo comunista, comunista sovietico, socialista. E alla fine penso che non sono riusciti attraverso guerre normali, convenzionali o fredde che dir si voglia, a diffondere il comunismo nel mondo, ci sono riusciti attraverso l'occupazione di posti politici strategici a livello nazionale e anche sovranazionale, l'occupazione dei mezzi di informazione che veicolano informazioni pilotate, informazioni falsate e che fanno sì che tutti pensiamo al fatto che il governo, i governi stanno agendo nel nostro interesse. E' bene che tutti ci mettiamo in testa, che nel prossimo futuro diventeremo tutti comunisti, che non avremo più la libertà di poter decidere se essere autonomi o dipendenti e che le scelte d'acquisto, le scelte di vita saranno condizionate chiaramente dalla volontà dei governi nazionali e soprattutto sovranazionali. Ora, probabilmente non abbiamo delle alternative, ma è bene prenderne coscienza. Quindi, se volete, potete diffondere questo video. Spero che nessuno si senta leso da queste mie parole. E' il mio pensiero, la mia opinione, criticabile, contestabile. Non mi faccio portatore della verità assoluta, però questo è quello che penso della situazione attuale. Un saluto a tutti e cercate di stare al sicuro. Un saluto a tutti e cercate di stare al sicuro.